Quattro giorni indimenticabili, percorsi in bicicletta sulla via Francigena, fino a Roma, dove ad accoglierli, dopo aver attraversato la Porta Santa, c'era il commissario della capitale, l'ex prefetto di Lucca, Francesco Paolo Tronca. E' con il cuore colmo di emozione che Giovanni Bertolli, Cesare Masini e Luca Amato hanno terminato questo viaggio. Partiti il primo giugno dal Duomo di San Martino, sono arrivati a Roma il 4 giugno. Il momento più emozionante credo sia stato quando abbiamo visto la cupola di San Pietro, poi quando stiamo avvicinando abbiamo visto le mura vaticane, poi quando effettivamente siamo arrivati sul posto abbiamo raggiunto la meta con le nostre biciclette partendo da Lucca e quello penso sia stato il momento più bello di tutta la quattro giorni che abbiamo pedalato. Un pellegrinaggio molto particolare reso possibile da tante persone che in vari modi hanno contribuito a partire dalle famiglie. In particolare gli amici Mario Andreini di Api Sprint che con i suoi prodotti ha permesso di poter arrivare a Roma. E l'amico Marchi Mario delle ceramiche Fori Sportam che tra l'altro ci ha donato una ceramica che abbiamo donato al prefetto Tronca che raffigura le figi del Volto Santo. E per ultimo, ma non per ultimo, i bizzarri Walter per quanto riguarda la messa a punto delle bici, Ivano Fanini di Amore e Vita che anche lui ci ha donato le magliette. La medaglia donata loro da Tronca dedicata al gemellaggio Roma-Parigi potrebbe finire nel nascente museo della Via Francigena a Lucca. Ma adesso i tre amici pensano già a un nuovo progetto, il cammino di Santiago in memoria di Francesco Ticci.